Eccoci qua, eccoci tornati, eccoci tornati. Senti, questo blocco ce lo giochiamo in casa, ti va? Sì, lo spot pubblicitario, lui trasforma le trasmissioni in pubblicità, non ci fa dei casi. Guarda, ma infatti, guarda, altro che in casa, qui parliamo di un evento internazionale che si è concluso proprio nella giornata di oggi all'interno dell'Università Nicolò Cusano, REN Conference, la sua seconda edizione, la prima in presenza, tra l'altro... Si chiama Conference proprio perché è internazionale, se no si chiamava... Conferenza, esatto. Tra l'altro, credo di non sbagliare se dico che è il primo evento di questo genere ad essere stato organizzato praticamente in presenza, come se la pandemia non fosse mai esistita. Ecco, questa affermazione vagamente iettatoria... No, 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 nel senso che l'abbiamo vissuto con ovviamente tutte le regole del caso, però insomma in maniera più libera rispetto alla prima edizione che è stata online. No, è molto bello, insomma, il nostro lavoro mediatico, diciamo così, di riproporre anche quello che accade di rilevante e interessante per la collettività, perché non facciamo diciamo così filo di fusione come tv, ma andiamo in onda in tutta Italia, però quando l'evento ovviamente lo possiamo toccare con mano all'interno del campus dell'Unicusano è ancora più semplice per noi raccontarvelo. Lo faremo con i nostri ospiti, ma prima Alessio Morigi, sei ricordato di far fare... Un bel servizio e lo vediamo, ci sono tutti i dettagli e poi tutti i nostri ospiti. Dopo il successo strepitoso della conference dello scorso anno, l'Università degli Studi Niccolò Cusano e il suo laboratorio di ricerca scientifica di neuroscienze educative dello sport, Eracle, hanno deciso di bissare. Ritorna per il secondo anno la manifestazione dal titolo Research on Educational Neuroscience International Conference, fino al primo aprile 2022 presso il campus dell'Unicusano. Mille contatti con 24 ore di diretta webinar, con la partecipazione di sei rettori e 66 relatori provenienti da ben 37 università di sette paesi diversi. Un successo strepitoso nel 2021 che ha spinto l'Ateneo ad organizzare una seconda edizione con numeri ancora più importanti. 130 relatori appartenenti a più di 40 università italiane e straniere, ai quali sarà data l'opportunità di accedere sia online sia in presenza. Con questa iniziativa, l'Università Niccolò Cusano vuole dare un forte segnale di ripresa delle attività di ricerca scientifica e divulgazione in presenza. La voglia è soprattutto quella di riportare le attività scientifico-divulgative alla normalità. Per questo, l'evento si svolge in presenza, con tutte le precauzioni del caso e viene comunque trasmesso in streaming. La manifestazione che vede la partecipazione di illustri colleghi di università italiane ed estere verte sul dialogo tra la pedagogia classica e le neuroscienze educative per creare un ponte che valorizzi tutti i contributi, al fine di ricercare l'agire educativo più idoneo a contesti, persone e società, come ha commentato il professor Francesco Cassese Peluso, Head of Educational Neuroscience and Sport Lab, Eragle. Con l'evento, quindi, si vuole dare di nuovo importanza alla necessità di uno spazio fisico per celebrare gli sforzi che in ambito educativo sono stati fatti in questi due anni di criticità. Il simposio di apertura nel giorno della fine dello stato di emergenza nel nostro paese e l'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma è la prima ad ospitare il ritorno di un evento di divulgazione scientifica accademica in presenza. Alla conference partecipano illustri esponenti delle scuole pedagogiche italiane, nonché personalità del mondo politico e accademico internazionale, col patrocinio delle maggiori società accademiche italiane SIPED, SIRD, SIPES e SIREM. Allora, immagini del campus Unicusano che ha ospitato questo importante evento che noi vi portiamo in tv, anche in questo caso in presenza con i nostri ospiti. Sì, andiamo a presentare, si allarga l'inquadratura, che stava diventando veramente promiscua quasi, io e te sempre vicini, andiamo a presentare i nostri ospiti di oggi, partiamo dal professor Luigi Piceci, psicologo, ovviamente della nostra università, Eracle Lab, buonasera professore, e poi andiamo dalla professoressa Gabriella Rodolico, docente di educazione scientifica alla School of Education di Glasgow. Buonasera, buongiorno. Accanto alla professoressa Rodolico, grazie per aver accettato il nostro invito, il professor Mark Breslin, docente di educazione fisica, salute e benessere e formazione iniziale degli insegnanti presso l'Università di Glasgow. Buonasera professore. Good afternoon, evening, sorry. Buonasera, buonasera. Grazie. E dunque, un parterre di prestigio per raccontare questo bel evento, io inizierei dal professor Luigi Piceci, che è entrato fin negli ingranaggi di questa iniziativa, io l'ho vista veramente, ormai è quasi un mese che noi ne parliamo, ma voi da ben prima avete iniziato a lavorarci. Abbiamo fatto un po' di tutto in questi giorni, onestamente, però è stato divertente, perché abbiamo visto nascere questo evento, che come giustamente dicevate voi, ha la sua particolarità perché è in presenza e quindi è un bellissimo messaggio di ritorno alla normalità, anche in ambito di ricerca scientifica, dove si ha bisogno di incontrarsi. E c'è stato veramente tanto network fra tutti questi ricercatori, abbiamo avuto, come avete citato voi giustamente, 120 progetti inviati che verranno pubblicati. Quindi un bellissimo, bellissimo. Poi io dico che le manifestazioni funzionano quando non si vede il problema. È ovvio che dietro ci stanno dei problemi che nascono, ma se non sono percepiti vuol dire che la manifestazione ha funzionato e quindi mi avreste visto al mattino molto presto gironzolare per le aule, perché io sono il tecnologo del gruppo Eracle, e facevo il ragazzo del computer, quindi avviavo i pc, controllavo le telecamere, e la professoressa Mariani, che avete anche avuto in trasmissione, lei controllava che ci fossero i blocco notice, le penne e l'acqua, quindi... Che bello! Ma devo dire, è anche divertente fare lo start-up, perché si mette mano un po' a tutto e si torna un po' bambini. Detto questo invece è un evento molto serio, molto importante, perché come avete giustamente citato voi, sono presenti le più importanti associazioni del nostro settore, che è la pedagogia in Italia. Certo, esatto. Per dare proprio, come dire, un riferimento a chi ovviamente ci sta seguendo, non è detto che sia informato, soprattutto su queste materie. Oggetto dell'incontro, cioè il tema portante, qual è stato, e poi le chiedo di specificare cosa sono le neuroscienze, perché è una materia che io vedo sta entrando piano piano ad essere presa in considerazione, anche in ambiti apparentemente particolari. Ho letto degli articoli riguardo il rapporto tra neuroscienza e giustizia, che sembrerebbero appunto due strade completamente diverse. Allora, noi abbiamo parlato di neuroscienze in ambito educational, in ambito di istruzione, dividendole in diversi topic, in diversi filoni, perché, come giustamente dite voi, le neuroscienze fanno parte della nostra vita. Non possiamo prescindere da un'osservazione olistica di quello che ci accade. Quindi noi non siamo su un'unica strada, ma sono tante strade di uno stesso viaggio che si intrecciano. Questo convegno internazionale le ha volute trattare attraverso la parte motoria, attraverso la parte tecnologica, attraverso la parte fisiologica, e abbiamo avuto cinque topic diversi in contemporanea, perché avete giustamente citato nel servizio molto ben fatto, e che riassume veramente bene quello che abbiamo, quello che il servizio non dice è che ci sono stati cinque gruppi di lavoro che hanno lavorato per due giorni assieme su vari tronconi delle neuroscienze, che rappresentano un po' l'essere olistico dell'uomo, volendo semplificare perché ci ascolta senza andare... Milla poco. Semplifichiamo, ma non poco direi. È tantissimo. È tantissimo. Allora, ringraziando la professoressa Rodolico che ci farà anche da interprete, perché lei lavora proprio presso la School Educational di Glasgow, ma poi ci racconterà anche la sua esperienza sul campo dal punto di vista universitario, didattico e di ricerca. Ci aiuterà nella traduzione con il professor Mark Breslin, che appunto insegna educazione fisica, salute, benessere, formazione all'Università di Glasgow. Partiamo proprio dalle cose più semplici, poi sentiamo cosa ci risponde lui. Il rapporto tra le neuroscienze e l'attività didattica che la riguarda in particolar modo nel suo campo. Il tipo di ricerca che il professor Breslin era qui a presentare è principalmente legato alla possibilità dell'internationalization, quindi relationship, rapporti fra le varie istituzioni che offrono dei corsi per l'educazione, degli insegnanti e di come possiamo fare in modo di scambiare la nostra cultura che ci enrich, che faccia diventare ognuno di noi, diciamo ci aiuti a superare tutte le nostre barriere, ci aiuti a superare i nostri limiti insieme ad andare avanti. Quindi, nonostante il nostro lavoro di ricerca è principalmente sull'internationalization, Mark, qui dice che siamo rimasti particolarmente colpiti dalla vastità dei top, degli argomenti che sono stati trattati nella REN con una rilevanza estremamente importante a livello educativo e con una possibilità di integrazione fra i vari argomenti trattati che di sicuro porteremo alla nostra università e faremo in modo di farli fruttare su quello che abbiamo voluto imparare. Io volevo fare un'altra domanda al professor Breslin, perché noi veniamo da un paio d'anni, due anni e mezzo, traumatici da tanti punti di vista, con strascichi dal punto di vista psicologico ma anche rispetto alle nostre abitudini di vita quotidiana, alimentari. Ecco, se c'è qualcosa che abbiamo perso in questi anni è anche il rapporto con il nostro fisico, con l'attività sportiva, con il benessere, è questa l'occasione di rivalutare questo tipo invece di discipline per ritrovarci e magari superare questo tipo di disagio? Con tutti i problemi che abbiamo avuto con la Covid-19 e tutto il fatto che non possiamo fare alcune attività fisica e tutti i problemi psicologici che ci sono generato, è questo il momento di rinforzare il futuro e integrare ciò che abbiamo appenappato e cercare di rinforzare tutti gli aspetti negativi che la Covid-19 ha portato a noi? Yeah, personally I feel that we are sitting on a tsunami of mental health, emotional issues, children that have been isolated for two years. Al momento stiamo, secondo il professor Breslin, qui siamo seduti su uno tsunami di problemi a livello mentali e fisici anche e soprattutto per quanto riguarda l'età giovane, quindi i bambini e i ragazzi delle scuole e che... We are already reporting in the UK and in Scotland in particular significant high numbers of children with mental health, self-harm, many suicidal thoughts that we need to prepare for and we are a crisis, we need to react to the pandemic, we need to react. Quindi, diciamo, anche guardando alle statistiche scozzesi dove noi esercitiamo, perché appunto l'Università di Glasgow, siamo in uno scenario di crescita dei problemi mentali e soprattutto anche nella fascia giovane dove addirittura si osserva la self-harm, cioè i bambini che si vogliono auto-infliggere del male, l'autolesionismo, addirittura anche al suicidio... Aumentano i casi, sì, lo sappiamo. Cosa che dobbiamo assolutamente, con la ricerca e con l'educazione, dobbiamo fare qualcosa. Assolutamente. Ecco, ma questo chiedo al professor Breslin, al di là della pandemia, è una problematica che si è accentuata, diciamo così, e le chiedo se, immagino di sì, quanto è importante oggi il tema proprio dell'inattività dei più giovani? Cioè il fatto che magari le nostre generazioni percepivano lo sport quasi come un'esigenza, l'esigenza di scendere in strada, giocare con una palla, e oggi invece c'è la tendenza a considerare lo sport un impegno poco gradevole da parte delle nuove generazioni. Si può invertire in qualche modo questa tendenza? Sì, siamo in una società in cui i bambini pensano del sport non più come qualcosa che possono giocare e che vogliono andare a giocare l'esigenza, ma più come qualcosa che hanno bisogno di fare, non più più divertente. Quindi, c'è una possibilità di revertire questa mentalità? È un'ottima domanda, un'ottima domanda. C'è un'ottima domanda che vediamo con l'advanzo in l'evoluzione dell'evoluzione 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 dell'evoluzione. Io avevo guardato giù benedata in l'evoluzione dell'evoluzione 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 dell'evoluzione. mental health conditions because of the impact of the the mean technology is not all bad we can't say that technology is probably the reason i'm sitting here just now because we've used technology and advances of technology to evolve and even within education however there's a downside to that with children in particular and it relies heavily on you know yes schools and teachers but those children have got to go home to parents and that and and parents need to be more aware of the impact of technology and what it can have on children's global well-being physically mentally emotionally socially sorry if you want to say sorry quindi sì è una cosa che abbiamo riscontrato anche nel nostro sistema educativo dove i bambini spendono tantissimo tempo passano tantissimo tempo con il game boy invece di andare fuori a giocare e questa cosa ha avuto un impatto non solo sulla loro stato mentale ma anche sull'obesità sul sulla sulla dieta sulla stile di vita e però c'è da considerare che ci sono dei lati positivi e dei lati negativi nel lato positivo della tecnologia per esempio noi abbiamo potuto fare il nostro lavoro di internationalization perché c'era zoom e perché c'erano piattaforme come zoom che potevano essere utilizzate per la collaborazione online quindi è una questione più di educare le generazioni comprese i genitori a come utilizzare la tecnologia nel modo più opportuno perché è un'evoluzione è certo e qui io non posso non cogliere questo assist no perché proprio l'utilizzo della tecnologia di un certo tipo di tecnologia che connoterà un suo impegno nei prossimi giorni professoressa ancora qui all'università nicolò accusano dove terrà delle vere e proprie lezioni a docenti e dottorandi tra l'altro e questo fa capire anche no l'importanza di questa disciplina no di questo utilizzo della tecnologia perché riguarda trasversalmente facoltà anche diametralmente opposte per ambito da scienze della formazione a ingegneria l'utilizzo della realtà virtuale della realtà aumentata di questo si occuperà sì grazie per la domanda la realtà virtuale la augmented reality quindi la realtà aumentata che noi adesso la chiamiamo realtà estesa quindi la chiamiamo extended reality questo è quello di cui mi occuperò nei prossimi giorni con il professor Piceci è una questione anche lì di educare le generazioni inclusi gli insegnanti alla possibilità di utilizzare questa tecnologia per supportare quelli che sono le intenzioni di apprendimento noi le chiamiamo intended learning outcomes quello che tu vuoi insegnare lo devi programmare per quella giornata che devi fare le tue lezioni per quella lezione ma lo devi programmare in un modo dove la tecnologia viene complementata da tutta una serie di altri strumenti per l'istruzione che sono comunque validissimi come può essere un libro come può essere il worksheet come può essere sì la produzione di podcast videos il linguaggio multimediale che vogliamo utilizzare non è solo basato sulla tecnologia digitale ma tecnologia è anche la penna il foglio di carta che utilizziamo quindi usare il prodotto della tecnologia per l'outcome dell'apprendimento con l'integrazione di ognuna di queste componenti quindi il mio lavoro sarà di spiegare come queste componenti integrate e quali di queste componenti vanno integrate per il tipo di apprendimento che vuole essere promosso se posso aggiungere una cosa? certo che può professore come dice la professoressa lo dico qui non si parla più di multimediale ma di multimodale sì è vero dobbiamo usare il tutto noi spesso facciamo un piccolo errore guardiamo al digitale e diciamo forse meglio questo oppure questo no entrambi perché è proprio nella multimodalità che possiamo dare anche dal punto di vista esperienziale di chi la subisce dei risultati differenti assolutamente questo infatti è il mio tablet foglio la penna sicuramente lo gestisco meglio il professor Breslin ha risposto a tutte le domande tu hai capito playstation esatto è incredibile ma professore adesso voglio fare una domanda e sicuramente adesso trovo l'insegnante di educazione fisica che mi insulta in tv perché volevo chiedere questo a professor Breslin lei che fa appunto anche un'attività di formazione la sua università anche per gli insegnanti e per i futuri docenti nell'ambito dell'educazione fisica a volte l'insegnante di educazione fisica il mondo degli insegnanti di educazione fisica possono fare autocritica nel senso che non so se accade anche in Scozia ma in Italia nella nostra esperienza di liceali e nelle esperienze a volte abbiamo trovato dei bravi insegnanti di educazione fisica attenti facevi ginnastica e altri che ti buttavano una palla in mezzo alla palestra oppure addirittura che proprio ti dicevano fate quello che volete ecco questo è un punto su cui lavorare che a volte la materia viene un po' trascurata in ambito scolastico la lettera e la numerazione e la salute e il well-being la salute e il well-being è una fondazione ma solo quando hai la fondazione potrai mettere i blocchi di educazione rispondo però mettendoci anche qualcosa di mio perché in realtà il sistema scozzese è diverso rispetto a quello italiano noi abbiamo un curriculum che va dai 4-5 anni fino a intorno ai 16 anni che magari lo consideriamo Broad Gender Education è un ciclo unico sì anche se in realtà va dalle scuole elementari fino al primo o secondo anno di superiori noi non abbiamo le medie quello che abbiamo lì è che il curriculum for excellence così è chiamato il nostro curriculum ha tre fattori principali literacy quindi la letteratura anche intesa proprio come scrivere, leggere insomma questo la numeracy quindi la capacità matematica non solo intesa come matematica ma anche come letteratura matematica e poi c'è l'elf and well-being che l'elf and well-being è compreso quello mentale e fisico quindi i professori di educazione fisica diventano il pilastro numero uno la terza gamba sono tre gambe praticamente è il pilastro se consideriamo questi tre pilastri del curriculum quindi è il sistema educativo che attribuisce l'importanza diciamo che viene vista l'educazione fisica come un'educazione al benessere non è un'educazione semplicemente al movimento al movimento e infatti c'è l'educazione del movimento l'educazione dell'alimentare l'educazione del mentale e il mindfulness è compreso quindi l'insegnante di educazione fisica deve avere tutto e deve fare tutto l'educazione fisica l'educazione fisica educazione fisica come comunicazione problem solving team work resilienza team building è un'educazione fisica l'educazione fisica sì perché quando la performance aumenta la comunicazione il team work la resilienza la confidenza la self esteem avete bisogno che penso che si è capito per gli spettatori però si è capito diciamo che tramite il veicolo dell'educazione fisica in realtà si sviluppano tutta una serie di processi cognitivi e mentali che sono basati anche sulla persona quindi sviluppi delle capacità di vita sviluppi la resilienza sviluppi la capacità di lavorare in gruppo come la capacità di lavorare da solo di prendere le due decisioni e di risolvere un problema è tutto in un tempo molto limitato quindi questo tipo di capacità che vengono sviluppate nello sport poi vengono tradotte trasmesse nel resto della vita certo quindi è importantissimo diciamo che c'è un'attribuzione però al ruolo del docente diverso da quello che magari attribuiamo una consapevolezza una maggiore consapevolezza perché in realtà il sistema educativo italiano dove io ho imparato la mia educazione cioè io sono stata ho fatto le medie le scuole superiori qui in realtà c'è una consapevolezza di se stessi è l'identità dell'insegnante non è quello che ti viene detto di fare o non fare o che il sistema educativo ti supporta o no si è vero meno burocratica identità la tua missione diciamo così comunque sta cambiando un po' anche in Italia questo eh no no per carità cioè adesso volevo fare una credito no no è molto vero perché anche i miei tempi era esattamente così un po' così adesso grazie al fatto che comunque non sei un diplomato ISFA ma sei un laureato poi anche noi abbiamo scensi motori la preparazione dei docenti è differente e di conseguenza anche l'erogazione avviciniamo ai canoni europei non me ne vogliono era una domanda che devo fare che non te ne vogliono adesso ti prendi tutti senti io ho una domanda molto importante ma io credo che abbiamo quasi finito aspetta la devo fare ma visto che lui si occupa di educazione fisica e benessere non sul pad ma un goccio di birra e un goccio di whisky ce lo possiamo bere comunque they want to know can they drink beer and whisky even if you know you are an expert in FM well-being is that something good they can do I can go drinking with my dad my dad likes whisky tell me about l'amaro 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 last night I learned some culture Italian culture l'amaro and your foot ah l'amaro beautiful and at the end l'amaro but then I thought I thought I'm fine I don't know I don't know I don't know I don't know io gli facevo ma no ma sorseggelo te lo gusti si vabbè altra cultura quindi ci ha risposto pure su questo vabbè ci ha risposto insomma si può fare ogni tanto senza esagerare certo abbiamo fatto prima sicurezza stradale vabbè dopo non devi guidare resti a casa dopo non devi guidare va bene va bene andiamo a ringraziare tutti i nostri ospiti che tra l'altro hanno animato in questa due giorni la conferenza internazionale REN un ponte tra la pedagogia dove guardo tradizionale e le neuroscienze tra l'altro sono tre giorni che lo imparo a memoria il sottotitolo di REN ringraziamo dunque il professor Luigi Piceci grazie Università Nicolo Cusano la professoressa Gabriella Rodolico School of Education di Glasgow il professor Mark Breslin grazie Università di Glasgow grazie a tutti Ranger o Celtic 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 grazie pubblicità grazie a tutti Grazie a tutti.